Musica 5,4,3,2,1 Andiamo a tutti i ragazzi, siamo sui video Oggi siamo qui, tornate con una nuovissima parodia Dopo tanto tempo ragazzi che non portavo parodie Eccomi qui, tornata con una parodia parodiosa Oggi siamo qui per fare la parodia parodiosa di Le nuove mette biglie Capirete più avanti Mi raccomando che per questo video aggiungiamo i 15 mila like E niente, cominciamo Sai che giornata di merda oggi Tutorial, come cominciare un video Davvero, e li tieni, sediamoci Ma dov'è non scarpa la recitazione, c'è Cristo Ti devo raccontare una cosa, sei la mia best, Fridi E anche con l'inglese, c'è Stamo Ti devo raccontare una cosa molto importante E dimmela Vabbè ragazzi Ragazzi, è troppo bella la scuola che mi piace tanto Ma spiegate perché mentre questa parla L'altra ride, perché? Momenti di riflessione Eeeh, è covatto questo Ma sì dai è un covatto, quello ragazzi, dai È un covatto Cazzo C'è, tipo Non lo so Tipo Eeeh, oppure Eeeh, oppure C'è, capito Tipo, se ti piace, provaci Che ti devo dire Ma tipo, io stavo dalla testata Vabbè Ma non urlare che mamma si sente Ma stai, mi devi smettere Non lo convinti Mamma, mamma Ma non lo so Mi ha chiesto di pensare agli uomini Mi devi aiutare in casa Io sono malata Ragazzi, sono un imbarazzo per loro, vi giuro Va bene, ma si calmi, però scusi Sto facendo il cazzo di controlla Che, che, che devi dire Non gli posso dire niente, ragazzi Che gli posso dire Eeeh Buoh, non so come commentare questo Basta, tu l'hai rotto il cazzo Noi ragazzi Questa è la scena più divertente Che abbiamo visto Ogni volta aveva guardo un rito Cioè Vabbè Cioè, proprio dalla versione This is Sparta Oddio Eh, però avverti, madò Io voglio uscire Io Mamma Ma che vuoi uscire? Ma che vuoi Mamma Sono un attimo confuso Cioè, non Non sto capendo Jerry, figlio di Gennarini Non sarebbe mai uscito Sarebbe rimasto a casa con la mamma A aiutarla Voi gli ho fatto un cazzo Nella cattina Fino alla sera Sto convinte loro Eeeh Madocena che padre Io Non la parola Madocena Vabbè Sono lei ragazzi Sono lei Brutta svergognata Non si pronuncia la madonna In vano In mia presenza Brutta sverg... Questa era pesante Ma Madò Era proprio pesante E mamma mia amica Ho detto madonna Ho detto madocena Oh E' infatti Cristo è Dio Perchè Perchè Una scena del genere Cristo Cristo Voi Non andrete Da nessuna A te Madò Che ragazza mestruata è questa E' io tesoro Io mamma Ma questo Sempre che ha la scopa in mano Ma io non ho capito Io mamma Sto tanto male Io buono mamma Se se Gli faccio così a mia madre Mi ha piedi a piedi Mi ha trascinato giù Dal letto a castello E io vado a fare la spesa Ci vediamo più tardi Questa va a fare la spesa La bandana E la scopa Cioè io non ho capito Devo andare a pulire il supermercato Vai e vai E vai E voi Staresti male Ma per chi cazzo Mi avete presa Io ragazzo Ma quindi è un trance Perchè i cuscini Nell'occhietti Cioè manco mi cugina Dei otto anni C'hanno loro Tanto male Non ce la posso fare Buttate E fu così Che il cringe Finì Beh ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Sì È molto cringe Però spero comunque Che vi sia piaciuto Mi raccomando In questo video ragazzi Raggiungiamo i 15 like Poi Solkeratevi su tutti i mondi Di social network Da link sotto Alla descrizione Scrivete 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 Belli E niente Ciao 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 Ciao